C'è stata una fuga dalle colonie Extramondo venti giorni fa. Sei replicanti. Ci vuoi tu, Dek? Voglio il vecchio cacciatore. I replicanti sono come ogni altra macchina. Possono essere un vantaggio o un rischio. Se sono un vantaggio non sono un problema mio. Io sono Rachel. Dekker. Progettati come copie degli esseri umani in ogni senso. Come fa a sapere cos'è il sospetto? Il commercio è il nostro fine qui, la Tyrell. Più umano dell'umano è il nostro slogan. Se solo potessi vedere quello che ho visto. Quale sarebbe il tuo problema? Io voglio più vita. Peccato però che lei non vivrà. Sempre che questo sia vivere. Più umano dell'umano è il nostro slogan. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. ! fareetta! ! ! !